Ed eccoci nella sede elettorale di Forza Chieti, la lista che nasce da Forza Italia a sostegno del candidato sindaco Bruno Di Iorio, siamo qui con l'assessore regionale Mauro Febo. Allora commentiamo un po' questi dati, al momento c'è questo testa a testa in vista del ballottaggio tra Ferrara e Di Iorio con un leggerissimo vantaggio di Ferrara e soprattutto appunto si andrà al ballottaggio, Di Stefano non è riuscito a vincere al primo turno? No, assolutamente, come avevamo detto, a differenza di ciò che si andava blaterando in città, qualcuno metteva in giro con sondaggi che non avevano i piedi per camminare, 53-54%, la nostra coalizione, non la lista di Forza Italia, la nostra coalizione 7%, addirittura leader che vengono a proclamare sindaco, a già chiamarlo sindaco, io ho sempre detto che porta sfortuna, si entra Papa e si esce Cardinale. Ma noi un grande risultato, un grandissimo risultato, una coalizione che nasce in un momento di difficoltà, campagna elettorale mai fatta a settembre con pochissimo tempo, io, la mia lista, quella di Forza Chiedi, senza la lista di Forza Italia si sta attestando all'11%, credo che sia veramente un risultato sbalorditivo, bravi, bravissimi i miei ragazzi, le mie ragazze, i miei candidati, i miei collaboratori e con tutto l'entusiasmo che ha guidato questa coalizione. Quindi c'è entusiasmo? Non vorrei farle una domanda che ci porta ad entrare troppo nella scaramanzia, ma ora ci credete al ballottaggio? Assolutamente sì, mancano tanti voti ancora da scrutinare, siamo testa a testa, avevamo detto, avevamo paura del voto di opinione perché il PD chiaramente è un voto di opinione importante, a Chiedi, il PD, comunque è sempre oscillato, il PD è sinistra, 36-38%, mi sembra che per loro sia una sonora sconfitta, credo che insomma mai il PD ha preso percentuali così basse, quindi insomma qui se c'è uno che deve festeggiare è di orio e credo di poterlo dire Mauro Febbo e Alessandro Marzoni. Il fatto che il centrodestra qui a Chiedi abbia corso separato Forza Italia da un lato, Lega e Fratelli d'Italia dall'altro, è stato questo l'ago della bilancia affinché si sia giunti al ballottaggio? Guardi, queste sono elezioni amministrative e sono elezioni comunali, come in tutte le cose ci può stare un momento di divisione perché ci sono delle visioni diverse sull'amministrazione e credo che il risultato lo dimostri, avevamo ragione noi cinque anni fa quando io e Fabrizio Di Stefano non volevamo candidare di primio, tant'è che al primo turno si è fermato al secondo tempo, al 37%, mi sembra che la cosa sia ripetuta, ho ragione io perché Di Stefano si ferma al 37%, quindi credo che forse questa analisi che io ho fatto, che io ho pregato nel 2015 di fare e non mi hanno dato retta, chiaramente questa volta non potevo fare lo stesso errore, mi sembra che non ha portato a un risultato così importante, quindi forse un momento di riflessione in più, insomma Chiedi avrebbe avuto un altro sindaco con un altro risultato. Queste amministrative sono destinate a ripercuotersi anche sulla politica regionale perché lei fa parte di una maggioranza che però corre divisa durante queste amministrative, c'è il coordinatore regionale della Lega, l'onorevole Deramo, che in diverse occasioni ha chiesto che lei venisse estrapolato dalla Giunta, il fatto che si vada al ballottaggio, cosa significa per il suo assessorato? Non significa nulla, lo ripeto, ricordo che Deramo ha fatto lo stesso percorso mio politico nel 2012 all'Aquila, lista è civica, queste sono comunali, non c'entra nulla con le regionali o con le nazionali dove chiaramente c'è anche un valore di coalizione, ideologico eccetera, quindi nulla c'entra, continuo a dire che Forza Italia in sede al Consiglio regionale ha tre consigli regionali, continuo a dire che io sono stato indicato dal mio partito e non mi sembra che il mio partito mi abbia sfiduciato, sono stato nominato da Marsilio che non mi sembra che abbia mai fatto quelle dichiarazioni. Quindi il suo posto è lì stabile, al sicuro anche tra due settimane? Alla vita non c'è mai nulla di sicuro tranne una cosa purtroppo, ma io sto lì, quindi mi conoscete, sapete, loro mi conoscono, sanno chi sono, sanno come reagisco, normalmente sanno che sono credente ma non porgo mai l'altra guancia. Stessa cosa però si è verificata ad Avezzano con una centrodestra non diviso, anche lì si andrà al ballottaggio, un commento su Avezzano? Ecco, questo è un elemento da valutare, io valuterei perché dove non va Forza Italia con la coalizione non si vince e magari anche in qualche altra regione non mi sembra che ci siano stati risultati eclatanti e importanti che invece andrebbero valutati per tenere in piedi una coalizione, perché quando si è leader si è anche nel tenere in piedi una coalizione. Abbiamo detto in apertura che c'è questo testa a testa in corso tra Ferrara e Diorio, se dovesse spuntarla a Ferrara e ci fosse... Andiamo noi, guarda, non mi fa questa domanda, io sono sicuro che andiamo noi al ballottaggio, quindi andiamo avanti con Diorio. E con questa convinzione possiamo concludere qui, grazie all'assessore regionale Mauro Febbo, linea allo studio. Grazie mille. Grazie.